buongiorno buongiorno è lui non è lui certo che lui lo schiso guardate come schisa vai un bello schiso oh 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 è sabito buongiorno un terzo ah mi tira un po' su madonna mi sono alzato incredibile la lavatina ce ne andiamo sotto la doccia sotto la doccia sotto la doccia una bella lavatina vabbè stanno a portare la figa bella mamma mia sta pieno sta pieno di figa ma lo beccati mentre la portavano niente freschino eh oh oh è sabito anche oggi sabito mattina presto si parte si va sempre l'abito il sabato perché è sabito ok o no o no tutti stanno andando va sveglia nonno va sveglia nonno eh io no non lo sveglio io non capisco niente tutti stanno andando va sveglia nonno faustino va sveglia non faustino io no sono diverso da c***a non te sveglio va bene ok ma io non capisco va bene o no ma che vuoi io non te sveglio ok ma che dici vuoi sono diverso dalla massa dammi retta non te sveglio stavolta chi è fuori sono diverso dalla massa io non capisco niente dove ad andare vaffanculo oh questo l'ha capito quindi io sono diverso e non lo sveglio ragazzi tu ti arrivi a svegliare facile ma svegliarlo eh provate a non svegliarlo voi provateci provateci comunque credo non ci abbia capito il c***o però non l'ho svegliata effettivamente questa conta come una svegliata eccola la bambolina ma ciao posso montarti sopra yeah oh che bello di dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén mannagia quel puerco ma come è possibile sa anche in spagnolo stamattina radio maria le studia tutto allora l'orosco poi so del capricorno approfittate del silenzio astrale per realizzare i vostri sogni ma che c***o vuol dire ma che so il cavaliere dello zodiaco ma vaffanculo tu e il silenzio astrale stamattina non ho trovato una canzone bella spinta ma la carica ve la do lo stesso perché la carica ce l'abbiamo dentro raga forza andiamo a spaccare sto sabato forza dai vaffanculo porca madre tocca la ora anche di sabato scherzo te vuoi muovere? dai stupido muovete dai dopo bisogna fare anche la foto insomma che lentezza la mattina te devi svegliare buongiorno proprio dormimo buongiorno direttamente da capri Angela stai buongiorno mattina parca madonna no nel senso madonna bello bel parca dai è bellissimo bello bello l'ha capita lei vabbè dorme ancora sta sui sogni ma non te la prendi così però ma per favore riflettici non fare così dai oh niente raga sei offesa e tacchino oggi oggi c'è voglio di una marea di cazzate oggi me la prendo per me appena finito di lavorare me la prendo per me oggi me la prendo per me la giornata non me frega un cazzo voglio di tutte cazzate tutto il tempo non me ne frega un cazzo tutte cazzate vi volevo far vedere una cosa uno parla crescite fanno mettono i botti i bitti i buppi basta che le fa una storia io guardate copri gli altri angela storia alle 8 sono le 10.43 222 richieste di seguire me ne rendete conto eh si spinge di qui eh beh si 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 spinge forte un bel po' una storia con carletto ecco comunque oggi zona gialla sa un po' di presa per il culo perché ma come cazzo è possibile domani gialli rossi un casino madonna però si va a pranzo con gli amici eccolo il BL7 è pronto stiamo per mettere anche lo sport dai mettiamo lo sport oggi siamo carichi vai 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 mamma mia vedete il cappellino tattico incredibile la buriana la nere c'è un vento che sposta gli appuntamenti chissà se il tavolo è rimasto prenotato boh ma è freddissimo porco cane però ragazzi di che vogliamo di che vogliamo parlare di che vogliamo parlare assisi ragazzi vogliamo parlare dai guardate che spettacolo appena si rimette tutto appena si rimette tutto ragazzi facciamo tutta assisi per tutti è di suo gradimento? grazie 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 a che? grazie a te grazie al cazzo sbaglio e ha una marcia in più l'attenzione nonna che paura c'è il colore ma quanto è bella guarda che colore che hai fatto mamma mia colore colore fermi te e mi manco ma quanto sei bella ma quanto sei bella ma mia che ti sposto vai su vai su alto guarda che bella domani tinta al top cina come la matta ma riadona come è Rolex dai sbuna eccoli i cucciolotti Sono Chiara Carli Mi sono cambiata Ora posso andare con i miei amici A fare un aperitivo Sono Chiara Carli Anche oggi molto stylish Ciao sono Chiara Carli Vorrei un commento sul mio outfit Mi pare che ti hai allagato casa Raga Fate quello che ve sentite Io ve lo senti libero Voi fare un aperitivo voi amici miei Chissà quando ci ritornerò Libero libero freedom È andato via con mamma Eri a conoscenza che il papa si sta per dimettere No da via Sì di Il papa si dimette raga Chi è arrivato Sei carico Guardate la deficienza umana Ma ti rendi conto Dove sei e dove vai Mamma mia C'è vergogna la gente Andremo Mandali a fanculo A fanculo Guarda eccolo Messaggio Pecora Pecora Beh Tu rista con gli amici che ti vogliono bene Se carico o no Depoglio 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 Chi è arrivato Andrei Bulletto del quartiere Bulletto del quartiere Eccolo il bulletto Ecco il bulletto 200 like 200 like per il bulletto Ecco il bulletto Macchinetta di Andrea Sei carico? Mi fido? Sì Mamma mia c'è anche i sensori Vai Vai Sto attento Oh lo stupido che aveva commentato su andreoni ha tolto il commento perché è stupido vero andrea speciale ricordate che andreoni è speciale ragazzi chiunque va contro andreoni va contro di me e non vi conviene vero guarda come si girano sona 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 più forte continuo vai sona 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 tutti a guarda come fai come così quando passi una figlia tu stai il top tu stai il top guarda le figlie ma ma che spettacolo